...permette a Trento di rientrare, ma che ora Kane, finta di consegnato, poi il taglio di Harper, che va ad affondare la schiacciata. Giocatore da 47 circa, per cento da due in regular season, ancora una palla recuperata, ancora indovinate da chi? Da Crawford, che poi va ad affondare. Non c'è soluzione di continuità, si spinge da una parte e dall'altra, due e mezzo per chiudere il match, ci prova Matteo Spagnolo da tre! E si iscrive anche lui alla partita. Gestire era stata anche sotto di sei nel primo quarto. Forrai si alza per il primo tiro da tre nel quarto, a bersaglio, e adesso prova ad allungare Trento. Forrai, quindi, Udom controlla quasi perdendo il pallone, poi Forrai tira in qualche modo! E beh adesso comincia ad entrare veramente di tutto. Palla sputata dal ferro e allora Tortona prova a riportarsi in avanti con Harper, quindi Maciura nell'angolo, la finta. Severini appoggia il tabellone, canestro e... E allora Harper prova ad andare uno contro uno, il pallone per Adojevic nell'angolo. Severini è solo, può tirare da tre, non sbaglia. Il contropiede si ferma però a Criston, Harper finta il tiro da tre, poi prova a partire in palleggio. Riceve il blocco dalla Adojevic, si alza adesso il tiro, sospensione di De Monte Harper. Per la rimessa della squadra di Ramondino, Criston ancora per l'uscita di Harper. Il taglio di Severini! E riesce a... Maciura tira giù rimbalzo, fa segno ai compagni di andare. Poi si ferma, si arresta e tira da tre, Geppi Maciura! Udom riceve con Severini che prova a marcarlo, lo scarico nell'angolo per Spagnolo che si alza da tre, sbaglia per lo Spagnolo. Kane, rimbalzo è a lungo per... Con un tiro da tre, vediamo se lo prova Tortona. Tavernelli prova a partire, difende bene Forrai però, pallone sotto ancora per Adojevic, appoggia il tabellone. Non ancora assegnato in questo quarto quarto contro i sei punti di Tortona. Candy, finta la finta e la partenza in palleggio! Poi Kane serve splendidamente il taglio di un ottimo Adojevic. Harper porta avanti il pallone, la pressione di Crawford. Arriva il blocco di Adojevic. Harper va fino in fondo, poi va in sottomano! Canestro e fallo subito! Parte di mano sinistra, prende il fallo. Serie di blocchi, scivola Flaccadori, esce Crawford, tira da tre, anzi no, finta, poi viene l'angolo per Lockett! Va fino in fondo, appoggia, il tiro è sbagliato completamente, rimbalzo è di Tortona, che spinge con Criston e vince la partita! 7-5, 7-3! Non è riuscito Flaccadori!